Forse non conviene più. Troppe stragi, troppo sangue dentro i propri punti vendita come un mese fa El Paso, Texas, 22 morti e 24 feriti, con i carri funebri che passano sotto le proprie insegne, la pubblicità peggiore. Per non parlare delle sparatorie mancate come a Springfield, Missouri, dove un giovane è stato fermato dopo che l'hanno visto aggirarsi tra gli scaffali armato e con centinaia di proiettili. Ecco, d'ora in poi Walmart non venderà più munizioni per pistole e fucili semiautomatici. L'amministratore delegato del gigante della distribuzione, Doug McMillan, ha scritto ai dipendenti per dire che è chiaro che la situazione attuale è inaccettabile e che chiederà alla Casa Bianca di darsi una mossa sul controllo delle armi. Già, ma Trump è sostenuto dalla National Rifle Association, lobby potentissima, e quando c'è una strage preferisce dare la colpa alla malattia mentale piuttosto che all'enorme diffusione di armi da fuoco, che negli Stati Uniti fanno tante vittime quanto gli incidenti stradali. 40.000 l'anno. Stragi sempre più massicce e frequenti, mentre i politici, se non conniventi, latitano. Non tutti a dire il vero. Il candidato democratico alle presidenziali Beto O'Rourke ha detto che i cittadini dovranno disfarsi delle armi d'assalto, e lui viene dal Texas, dove girare armati è sacrosanto. Ma intanto ci pensa Walmart, perché dipendenti e clienti, soprattutto giovani, sono stufi di finire impallinati e chiedono alle grandi imprese la grande impresa che lo Stato non sa più garantire, se non la ricerca della felicità, almeno dell'incolumità.